Vincolo i ragazzi degli AS Tronzi, un match che era piuttosto strano, visto che si è giocato contro una sorta di New Team Serie C Capitano è troppo forte, loro è in campo però il Portirone, Candici, allora una bella partita anche perché hai dovuto parare molto visto che gli avversari erano molto forti La Serie C sono i primi in classifica imbattuti, pensa Penso che sia un ottimo risultato per noi, a questo punto siamo primi in campionato Sì, primi, primi che Maltesers hanno pareggiato Voi ci tenete sempre, è sempre aperta la sfida Come ti è piaciuta la squadra oggi, come ha giocato? Abbiamo trovato bene, dobbiamo semplicemente stare un po' più attenti in difesa, ma abbiamo giocato con un punto Senti, i litigi con Rossi sono un'abitudine in campo? Sono tutti che stanno in campo Sempre, sempre, ora in campo Grazie, bravi ragazzi Ciao